Economia del mare è trasporto marittimo, pesca, turismo, cultura, energie rinnovabili. Abbiamo davanti a noi una grande sfida che è quella di voler far sì che questa grande opportunità economica, non solo italiana ma europea, venga inserita in un contesto internazionale per generare nuove opportunità, nuove competenze. E lo facciamo con un appuntamento che l'anno scorso ha visto una grande partecipazione con una presenza istituzionale forte del governo italiano che viene rinnovata ulteriormente in questa edizione del 2023.